Musica Ben ritrovati sul canale YouTube di Mondo Mobile, un saluto da Simone Oggi, prima di iniziare però la review di Sony Xperia M2 Volevo informarvi, visto come non sono dimenticato nel video dell'iPhone 5S Che ho aperto anche un canale gaming che invece che Mondo Mobile si chiama Mondo Games Che è fantasia! Comunque, se volete dare un'occhiata anche a quel canale non vi basta che o guardare qua sotto in descrizione Oppure digitare su YouTube Mondo Games, che è forse anche un pochettino più facile Comunque, review di Sony Xperia M2, qua sotto come nel video dell'iPhone 5S Trovate i link rapidi per le diverse sezioni di questa review Potete tranquillamente scegliere una di queste categorie oppure seguire il video tutto di fila A voi la scelta, comunque iniziamo dalla scheda tecnica Quindi, scheda tecnica da Sony Xperia M2 Oltretutto guardate qua in alto a sinistra Perché avete il link rapido per tornare direttamente alla parte iniziale del video Per scegliere un'altra categoria Visto che qualcuno, nello scorso video, nel video dell'iPhone 5S, me l'ha chiesto di farlo L'ho fatto, lo lascio sempre in sovrappressione per tutto il video Comunque, scheda tecnica, mentre compaiono le specifiche anche a schermo, ve le racconto un pochettino Il processore è un quad core MSM8226 Quindi uno Snapdragon 400 E 1.2 GHz quad core Mentre invece la GPU e la Dreno 305 Abbiamo oltretutto 1GB di RAM con 8GB di memoria interna E spandibili fino a 32GB con la microSD Mentre invece abbiamo il sistema operativo Android 4.3 Jelly Bean Quindi non l'ultima release KitKat Che però dovrebbe arrivare sia per il T2 Ultra che per questo M2 A breve, quindi verso, si presume, la fine metà agosto Mentre invece le dimensioni di questo medio di gamma di Sony sono 139,7 x 71,1 x 8,6 mm di spessore Il tutto per 148 grammi di peso Il display è un 4,8 pollici Quindi non arriviamo ai 5 pollici In tecnologia TFT LCD 229 ppi 960 x 540 pixel La fotocamera posteriore invece è una 8 megapixel Con una fotocamera frontale da 0.3 megapixel Vedete qua sopra in questa zona abbiamo sia il sensore di luminosità Che di prossimità Oltretutto il sensore di luminosità che funziona abbastanza bene Però non mette mai né al massimo né al minimo la luminosità Capsula auricolare anteriore Mentre invece ve lo giro E sul retro Ecco qua la fotocamera Qua abbiamo il flash LED e il secondo microfono Il loghetino dell'NFC Che sta appunto a significare che c'è l'NFC Posteriore in vetro col solito design Xperia Che quindi arriva anche nei medi di gamma Mentre invece ecco qua il lato destro Con questo bellissimo effetto specchio nella cornice Veramente la cornice è uno spettacolo Con anche il grandissimo e acclamatissimo tasto fotocamera Grazie Sony che l'hai messo in questo M2 Qua invece il bilanciere del volume e il tasto di accensione e spegnimento stand by Qua invece possiamo mettere la micro SD e anche la micro SIM Anche se non c'è scritto Mentre invece il lato sinistro Soltanto il connettore per la micro USB Sopra l'entrata per il jack da 3,5 Sotto lo speaker auricolare grande Con anche il microfono che è posto qua In questa griglia Che magari riesco a farvi vedere se la telecamera mette a fuoco Mentre invece qui abbiamo anche lo spazio per un laccetto A parte logicamente tutti i riflessi che ci sono qua in camera mia Concludiamo la scheda tecnica dicendo che abbiamo 21 Mb in download e 5,56 in upload E una batteria, mi stavo dimenticando, da 2300 mAh Quindi andiamo ora ad analizzare l'esperienza d'utilizzo quotidiana Per vedere come si comporta questo Xperia M2 nell'utilizzo giornaliero Partiamo dall'interfaccia per quanto riguarda l'esperienza d'utilizzo quotidiana Che è la solita Sony E' veramente la solita Sony C'è chi l'apprezza, c'è chi non l'apprezza Io non la disprezzo più di tanto Anche se forse, anzi togliamo il forse Avrei preferito qualche personalizzazione in più Soprattutto, aspettate che sposto un pochettino la telecamera Avvicino anche un pochetto Personalizzazione in più Soprattutto nel drawer e nella home proprio Perché in effetti è abbastanza anonima come home E probabilmente, ripeto, avrei preferito qualche personalizzazione in più Soprattutto per le icone, eccetera, eccetera Un po' in LG Style per intenderci Comunque per il resto è una Cosa ho appena premuto È una interfaccia che si muove abbastanza rapidamente Vedete qui abbiamo oltretutto anche alcune applicazioni preinstallate Come sempre Come per esempio News & Media News da Social Life, eccetera, eccetera Abbiamo anche Office già installato Abbiamo logicamente anche tutte le applicazioni come possono essere note Calendario, eccetera, 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 eccetera Sì, sto reinstallando Real Racing 3 Perché per fare il tutorial devo reinstallarlo da capo Quindi lo devo reinstallare Comunque parliamo di batteria Batteria, batteria devo dire buona Perché ci porta comunque a fine giornata con un buon 10% ancora E anche con un utilizzo molto molto prolungato Il che è sicuramente una nota a favore di questo M2 Parliamo anche del grip dato da questo Xperia M2 appunto Abbastanza buono anche se un pochettino scivolosetto Perché comunque le cornici, sì, sono bellissime da vedere quanto volete Però un pochettino scivola questo M2 Però grazie a questi spigoli così riusciamo a tenerlo abbastanza bene Parliamo anche di potenza sonora quando ce l'abbiamo in tasca Beh, devo dire che anche questa è abbastanza buona Ammesso che non copriate l'altoparlante che è posto qua sotto Se lo coprite non si sente più un bel niente Quindi state attenti a come lo mettete in tasca Insomma, se lo dovete mettere in tasca Magari mettetelo verso questa parte e lasciate libero questo altoparlante Così da sentirlo abbastanza bene Display, luminosità del display all'aperto Direi buonina Non è proprio al massimo la luminosità Non è proprio il massimo più che altro La luminosità di questo Xperia M2 Però si difende abbastanza bene È comunque un TFT Invece come proprio rapidità generale Quando lo utilizziamo quotidianamente Devo dire che non ho notato lag importanti O comunque considerazioni importanti da fare È sempre, quasi sempre abbastanza fluido Magari quando lo mettiamo molto alla corda Diventa un pochettino scattoso Ma veramente niente di così importante Così importante appunto da sottolineare Non è né al top ma neanche uno dei peggiori Assolutamente Diciamo che si mette proprio in mezzo Quindi un medio di gamma Aiaiaiaiaiai Andiamo alla parte multimediale Dico aiaiaiaiai Perché adesso lo vedrete Se per il display La faccenda è molto buona Sposto un secondino Il dispositivo Dico molto buona Perché comunque il display è molto buono Guardate qua Come vengono riprodotte Tutte le foto Anche quando avvicino Ve lo faccio vedere anche nelle scritte in piccolo Se magari mettesse a fuoco Vedete che comunque alla fine I pixel non è che si notino più di tanto Occhio nudo non si notano proprio quasi per niente Anche i colori comunque Sono abbastanza ben tarati Guardate qui anche questa foto È molto buona Gli angoli di visuale sicuramente Non saranno il massimo Il massimo Però comunque sono abbastanza buoni Mentre invece L'Aiaiaiai Ce l'abbiamo sia per il reparto fotografico Che è per il reparto multimediale Ma ora andiamo ad analizzare il reparto fotografico Eccoci qua Quindi nell'applicazione fotocamera Voilà E guardate qui Ogni tanto ha qualche scattino Anche la fotocamera proprio Però Devo dire che come funzioni Ci siamo Perché abbiamo anche l'Air Effect Che è molto 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 carino Possiamo scegliere questi effetti qui Probabilmente lo sapete già di che cosa sto parlando Io premo qua E poi guardate qui Se riesco a farlo funzionare al primo colpo Ok ci siamo riusciti Guardate qua che bellini Gli effetti che abbiamo Sono veramente uno spettacolo Poi possiamo fare la foto Va in elaborazione E poi scattiamo la nostra bella fotina Il nostro dinosauro carino caruccio Voilà Il problema Sono le foto per esempio all'aperto Guardate qui Questa è una foto fatta Proprio da poco Guardate qua quanto è Quanto abbiamo rumore Soprattutto nei dettagli Non so se si vedrà bene dall'obiettivo Ma fidatevi che Una 8 megapixel così Non l'avevo quasi mai vista Soprattutto passate sul PC Le foto perdono tanta 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 qualità Fin troppa E devo dire la verità Ora non credo di avere una macro Qua vicino Cioè qua vicino Qua nel telefono Infatti non ce l'ho Perché ho dovuto resettare tutto quanto Però fidatevi che anche le macro Stranamente non le fa proprio benissimo E non capisco perché Video vengono girati Logicamente fino al full HD Ma ve lo faccio anche vedere Non si sa mai Che io sbagli qualcosa E voglio ritornare soprattutto nella fotocamera Per un motivo Vi volevo far vedere Come gira le foto Alla fotocamera anteriore Perché molti Molti Moltissimi Me lo chiedono Come fa le foto Alla fotocamera anteriore Ecco le fa malissimo Fidatevi Le fa veramente Veramente male E questo per gli amanti Dei selfie Diciamo così Non è una cosa Molto molto gradita Anzi Per niente Quindi Questo bisogna dirlo È una nota Molto a sfavore Comunque Qua registra il video Ciao come stai Ok chiudiamo E non sono riuscito Non ci sia niente Invece c'è una sorpresa Allora Prendiamo una canzone Che so che ha una copertina Allora prima vi faccio sentire Back in black E poi ne parliamo Non tanto per il volume E nì Questa riproduzione audio Ma tanto Ma quanto per La qualità proprio Perché è troppo Impastato proprio Il suono Gracchia un po' troppo Non mi è piaciuta Più di tanto Adesso è partito Cocciante Non so perché Mentre invece Vi volevo far vedere Qua sotto Se riesco a beccare Una canzone Con una copertina Allora Qua vedete che Il led è viola Mentre invece Se Prendo Vediamo Faccio prima A fare così Mi sa Ecco per esempio Prendiamo questa Il led è marroncino Perché vedete che Questa Questa canzone Ha come copertina Vedete qua Il colore Principale Marron Ciò che Questa cosa Succede anche Nelle Foto Quindi se Becchiamo Una foto Più Azzurra Vediamo se Ce l'ho ancora Aperto Ve lo Faccio subito Vedere Pipipipipipipi Vediamo Dove l'ho messo Eccolo qua Vedete qua Il led È azzurro Mentre invece Con questo Il led è sempre azzurro, non so perché ok, ecco qua, questo per esempio è viola perché è tendente al viola e bla 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 molto carina questa cosa però purtroppo la pecca più grande di questo telefono è proprio la parte multimediale l'avete anche vista voi e oltretutto è successo in diretta ve ne volevo parlare però è successo in diretta mi dà ogni tanto rimozione improvvisa imprevista, anzi della scheda SD boh non capisco, io l'ho provata su altri telefoni ne ho provata anche con un'altra SD e me lo dà comunque non so se è un problema di questa unità o proprio del modello però me l'ha fatto almeno una decina di volte non capisco perché comunque parte multimediale purtroppo insufficiente parte telefonica e browser quindi da M2 allora iniziamo con la prima sposto un pochettino il telefono chiamiamo il 133 dailer abbastanza bellino anche esteticamente entriamo nella chiamata si è spento il display ehi, ci sei? non ci sei si è spento completamente perfetto, ok non vuole collaborare ok, allora ve ne parlo io del viva voce anche se adesso sicuramente riparlerà la invitiamo a digitare la sua scelta ecco zitta, zitta allora sì, diciamo che il viva voce è abbastanza buono però oramai chi è che lo usa più il viva voce del telefono insomma e mentre invece come funzionalità particolare abbiamo la funzione parla lentamente che io sinceramente non ho capito come funziona veramente ve lo devo dire in tutta onestà ci ho provato in ogni modo ma non cambia niente mentre invece l'equalizzatore pure quello non cambia niente anche se sì un pochettino di differenze già ci sono nella capsula auricolare però veramente non ne vale la pena di mettere un equalizzatore del genere non cambia praticamente un tubo però comunque la funzione la funzionalità del sistema di prossimità del sensore di prossimità fa spegnere tranquillamente lo schermo appena lo avviciniamo all'orecchio come tutti quanti oltretutto i device di ultima generazione ma ora passiamo alla ricezione che è abbastanza buona anche questa nella media come anche nella media ve lo anticipo già essere il browser entriamo purtroppo è Chrome purtroppo è Chrome anche se in questa in questa in questa versione comunque con l'ottimizzazione fatta da Sony è più fluido rispetto agli altri a Chrome che si può trovare sugli altri dispositivi assolutamente questo bisogna riconoscerlo guardate non ha ancora finito il caricamento però comunque ci si riesce a parte questo lag che abbiamo avuto a muovere tranquillamente adesso ha finito il caricamento guardate qui è abbastanza fluido purtroppo non abbiamo nessuna funzionalità particolare quindi non abbiamo il resize del testo quando facciamo un doppio tap diciamo che riposiziona la pagina a seconda della grandezza del testo per il resto invece è un browser tranquillamente paragonabile agli altri se non per il fatto che quando apriamo tantissime schede diventa un pochettino più lento più lento degli altri però per il resto è un browser che funziona bene e diciamo che se alla parte telefonica do un 6,5 o 7 alla parte browser do un 7 anche a quella chiudiamo questa review con la parte gaming e partiamo anzi facciamo partire Real Racing 3 vediamo quanto ci metterà per aprirlo partita la musichetta purtroppo vedete che non abbiamo l'immersive mode infatti rimangono sia i tasti che poi non possiamo neanche abbassare la tendina guardate qui io posso fare così tutta la vita però non cade niente non ne cala niente e probabilmente non parte neanche il gioco che ecco qua allora si devo dire che è un pochettino lento non è proprio velocissimo però vi annuncio già pur non essendoci tutti i dettagli al massimo anzi grazie al fatto che non ci sono tutti i dettagli e al massimo gira veramente fluidissimo allora giriamo a sinistra e giriamo a destra ok ok vai dai ok ora di andare però fammi andare che è meglio comunque guardate qui ora inizieremo un pochettino questa gara voilà e ripeto non ci sono drop di frame da nessuna parte il frame rate è abbastanza buono vedete che comunque tutti i dettagli non sono al massimo però per il resto si può giocare tranquillamente piccola cosa da dire purtroppo quando ci sono invece molti poligoni quindi molte auto da gestire qualche scattino già lo fa però per il resto niente da dire voglio chiudere la parte gaming con una curiosità e cioè con allora guardate qua mortal eh si però l'ho scritto male mortal combat 4 che è finalmente modern scusate cosa mortal modern combat 4 che è possibile finalmente scaricare anche su play store provatelo perché è una figata pazzesca io l'ho provato su galaxy note 10.1 versione 2014 ed è una bomba veramente se avete una buona gpu provatelo perché è veramente uno spettacolo da casa gameloft e vorrei anche vedere quindi parte gaming abbastanza buona non do un voto perché no perché in effetti non si può dare un voto perché si è fluido quanto volete ma comunque è grazie alla grafica che è stata tagliata di netto quindi decidetelo voi il voto comunque ora andiamo alle conclusioni finali per questa review di Sony Xperia M2 insomma tiriamo le conclusioni oramai per quanto riguarda Xperia M2 un buon terminale medio di gamma anche se le pecche tecniche soprattutto nella parte multimediale si fanno sentire lo consiglio a chi piace la user interface di Sony e a chi piace anche il design Sony con 250 euro vi portate a casa questo M2 non sono tantissimi per la qualità comunque costruttiva e anche la qualità dell'interfaccia di Sony ma capisco che a non tutti può piacere e soprattutto non piacerà sicuramente a chi ama far foto a chi ama ascoltare la musica dall'altoparlante quindi a me non andrebbe mai bene questo M2 per 250 euro anzi addirittura anche meno oramai potete trovare il Desire 601 che secondo me per ora merita di più rispetto a Xperia M2 però vedremo se si abbasserà sotto i 200 euro questo M2 sicuramente sarà consigliato l'acquisto però per ora per ora ripeto per ora come stanno adesso le cose 250 euro non spendeteli per questo andate più sicuri su un 601 che ha una parte fotografica buona e che ha una riproduzione dell'audio eccezionale HTC oltretutto e comunque diciamoci la verità anche pur essendo della scorsa annata diciamo come il vino risulta ancora essere il miglior medio di gamma per ora che abbia mai provato purtroppo non è uscita la review per diverse faccende però fidatevi è veramente uno spettacolo il Desire 601 quindi diciamo che per questa review è tutto se il video vi è piaciuto vi ricordo di lasciare un mi piace di commentare di condividere e perché no se avete acquistato Xperia M2 scrivete qua sotto nei commenti cosa ne pensate se siete d'accordo o meno su quello che ho detto durante questo video alla prossima un saluto da Simone ciao ciao